Ciao a tutti ragazzi qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in questo nuovo video speciale speciale perché spacchetteremo questo pacco nel magazzino poi andremo a vedere il magazzino e in occasione del Luca Comics sapete che ogni anno io tolgo la spedizione dal sito quindi faccio la spedizione gratuita per qualsiasi cosa come se fosse praticamente in fiera acquistando da me quest'anno invece voglio fare di più ragazzi voglio darvi un codice sconto direttamente simile a quello che ho dato due tre mesi fa che ha avuto un successo pazzesco ragazzi il codice sconto è ARA15 tutto maiuscolo tutto attaccato da inserire nella zona coupon del Carrero ragazzi in occasione del Luca Comics da oggi fino al primo novembre sarà valido su tutto quello che ho disponibile mi raccomando sul sito solo disponibile non vale per i preordini quindi purtroppo non potrò essere a Luca Comics ancora per poco mi sto organizzando spero di esserci presto però voglio appunto diciamo festeggiarlo comunque e darvi qualcosa in questo modo qui con questo codice sconto adesso andremo a vedere tutto il magazzino ma prima andiamo a spacchettare andiamo anche a spacchettare cioè video magazzino più spacchettamento più codice sconto è meglio di così ragazzi che cosa devo fare allora devo stare molto attento qua perché una mossa falsa e potrebbe crollare tutto alle mie spalle chiaramente quindi devo stare attento a come mi muovo allora pacco aperto spero che l'inquadratura renda più o meno ci siamo eccolo qua ragazzi per farvi vedere un nuovo arrivo che andava visto assolutamente perché appunto il codice sconto sarà valido anche su questo ragazzi eccolo qua direttamente da Sentinel il nuovo samurai trooper eccoci scusate se lo stavo inquadrando dall'altra parte pronto pronto per essere appunto acquistato da voi col codice sconto e fidatevi non lo troverete a prezzo minore mai più se non lo prendete adesso col codice sconto poi vi farò vedere anche gli altri che ho disponibili ma appunto addentriamoci nel magazzino oh ed eccoci qui con la sezione classica diamond select sempre più decimate in realtà vedete ce ne sono un po' di kingdom hearts il bruce lee sempre più decimata perché ne escono sempre di meno e appunto voi le comprate man mano e quindi finiscono ragazzi stanno diventando sempre più rare in realtà a fianco abbiamo la sezione invece marvel legends di queste ce ne sono sempre di più chiaramente anche queste comunque hanno la loro rarità e continuano ad uscire ragazzi chiaramente un successo pazzesco questa linea è una cartaccia mi ero dimenticato e qui ragazzi vediamo le altre ce ne sono un po' c'è il wolverine ancora il beast x-men hobgoblin ragazzi un po' di roba eccolo qua cerco di far rivedere un po' di tutto velocemente chiaramente senza annoiarvi ecco qua ma non penso che un video del genere a noi anche perché è sempre bello vedere appunto cosa si nasconde nel magazzino qui abbiamo le ultime due rimaste play art sky dal remake ovvero barrett e iris e poi abbiamo anche topolino bring arts da kingdom hearts e sora sempre bring arts da kingdom hearts spostandoci invece da questa parte ragazzi abbiamo un po' di statue cominciamo con le statue ragazzi ecco qua detective conan molto figa quella lì la mu l'ultima rimasta impossibile non prenderla poi abbiamo un po' di ban presto machine vegeta contro us per se è un 2 questo qui veramente classico scontro classico one piece digimon e qui vediamo anche il goku in armatura rufi altre ban presto qui chiaramente tutti i prezzi bassissimi qui abbiamo il piccolo con il ma kenko sapo mejinbu con la sua moss materia trunks, gohan, c'è di tutto ragazzi c'è di tutto potete trovarle sul sito semplicemente scrivendo dragon ball vi esce tutto quindi se volete dare un'occhiata potete fare così molto semplicemente oppure scrivendo il nome della statua se lo conoscete qui ne vediamo altre quelle di naruto molto fighe e altre di dragon oltre a cui due trunks incazzati neri il gohan beast ragazzi questo assolutamente da prendere prima che sparisca il mejin vegeta questa statua di chainsaw man sempre ban presto sempre prezzo modico e qui sotto abbiamo invece le pop up parete le ultime rimaste abbiamo vedete tra l'altro questi tre di full metal alchemist anche molto molto fighi tra cui Roy Mustang ragazzi spostandoci ancora qui stato è un po' più costoso perché si passa a bandai one piece edizione limitata per l'anniversario my hero academy queste qui sono veramente fighe ragazzi queste andrebbero pese in coppia poi abbiamo la statua di shanks doppia quella lì del film red che è spettacolare a mio parere e questa qui di Midoriya alta tipo più di 30 centimetri una quarantina veramente spettacolare e qui altre state abbiamo Nami l'ultima rimasta del ventesimo anniversario la limited edition di Marco la fenice pop questa spettacolare figure zero di chainsaw man ragazzi questa è da prendere ad occhi chiusi e poi il calendario dell'avvento ragazzi di Dragon Ball quello che ho fatto vedere l'altro giorno questo qui per Natale è must have must have soprattutto se poi lo pagate di meno con lo sconto altre statue da Jujutsu Kaisen Demon Slayer Naruto sempre figure zero però quindi qualità top prezzo leggermente più alto però ripeto con lo sconto ammortizzate e poi qui sotto altre statue Jujutsu Kaisen Demon Slayer le Kono Fig ragazzi anche queste le trovate tutte sul sito spostandoci ancora ole scusate se vi faccio venire il val di mare abbiamo la sezione model kit qui con un po' di tutto ragazzi i model kit base per iniziare di Goku e Vegeta la Batmobile questo assolutamente da prendere qualche Digimon un po' di Digimon in realtà questo è l'ultimo Digimon di quelli trasformabili Alfamon quello da tenere d'occhio ragazzi un po' di Gundam Angemon Gallantmon ancora Digimon questo è il Master Grid di Apion e poi abbiamo anche Jig tra l'altro scendendo qui abbiamo ancora model kit dei Digimon ragazzi con Alfamon abbiamo Shin Greymon pazzesco poi abbiamo questi qui invece che sono model kit però figma diciamo della Good Smile in realtà Rayart e Ceres e poi abbiamo i Gundam Universe classici quelli Bandai già montati e poi due chicche assurde ovvero il Masin Kaiser ragazzi per l'anniversario il ventesimo anniversario eccolo qua eccezionale e poi il Getter Ark ragazzi Bandai chiaramente Choco King roba pazzesca scendendo ancora abbiamo un paio di figure del Signore degli Anelli le BST e XN nome difficilissimo Aragorn e Legolas comunque sono piccoline ma piene di accessori queste qui non vanno sottovalutate poi abbiamo l'ultima rimasta ragazzi cioè Frodo Baggins eccolo qua me le avete scoppiate tutte queste e poi qua ragazzi questo come si fa a non prendere il set delle tartarughe ninja dal film NECA le migliori mai fatte con anche Shredder tra l'altro dal primo film e dal secondo film ragazzi di che cosa stiamo parlando cioè questo va preso subito con un set completo poi a proposito di piccoli set c'è anche questo ragazzi Luke contro Darth Vader con una mano sola è difficile farveli vedere insieme senza far cadere nulla eccoli qua dovrei trovare un collaboratore ormai eccoli qua sempre Black Series con la confezione vintage poi vabbè Darth Vader col volto scoperto ragazzi ma di che cosa stiamo parlando scendendo ancora ragazzi abbiamo un po' di NECA IT ritorno al futuro è stato da poco l'anniversario guardate qua che spettacolo queste confezioni ragazzi bellissime poi qui abbiamo la replica del rampino che ho fatto vedere l'altro giorno della serie animata il Batarang in edizione limitata ragazzi un botto di roba qui abbiamo Ghost Face in edizione appunto limitata con gli abiti in tessuto che è questo fantastico un po' di Black Series di Star Wars Obi-Wan eccolo qua poi abbiamo Luke un sacco di roba un sacco di roba il Mandaloriano e poi abbiamo anche Ahsoka Tano è l'ultimo Power Ranger per adesso dei Lightning Collection ovvero lo Yellow Ranger accompagnato anche dal nemico Rita anche questa ultimissima copia scendendo qui abbiamo ragazzi i due ultimi Masters of the Universe per il momento più il set Kotobukiya dedicato agli X-Men serie animata ovviamente ragazzi tra poco andremo a vedere tutte le figure Bandai che sono tra le più attese però per adesso ci deliziamo con le DC Multiverse un po' di DC Multiverse l'ultimo The Batman l'ultima DeLorean questo ragazzi è un pezzo veramente figo tento di farlo vedere un po' meglio un po' di altre macchinine lì Batmobili altre DC Multiverse tra cui le ultime uscite ovvero Bane il Joker rapinatore Mr. Freeze anche una delle migliori mai fatte qui abbiamo altre McFarlane con un po' di statue tra l'altro anche vedete da The Flash Azrael pazzesco questo qui ragazzi scusate la luminosità un po' buia però faccio qualche posto qui altre DC Multiverse tra cui qualche set Superman contro Batman lì un po' di statue nascoste ovvero Iron Man da Avengers Infinity Wars e lì sotto ragazzi scusate se non riesco ad andare più avanti c'è un Aerospider in resina ragazzi Diamond quella è una bella rarità cercatelo sul sito vedete un attimo un po' meglio non posso tirarlo fuori purtroppo per adesso a proposito di statue in resina ragazzi c'è questa che ho fatto vedere ho fatto anche la recensione è pazzesca ragazzi questa qui poi con lo sconto ancora più pazzesca e qui abbiamo anche quella di Mandalorian Kotobukiya con Grogu bellissima anche questa per avere qualcosa della serie è veramente iconica questa qui e a proposito di statue iconiche ragazzi qui dentro in questi tre Brown Box Iron Studios ci sono quella di Batman serie animata adesso vi faccio vedere un'immagine diciamo una videata di come sono aperte quelle che ho esposte io in collezione ragazzi ho fatto anche la recensione ma sono veramente veramente pazzesche e a proposito di cose pazzesche ragazzi qua a fianco troviamo un piccolo toys di Amazing Spider-Man 2 appena arrivato uno degli Spider-Man più iconici e più amati di sempre col costume giusto salendo piccola sezione dedicata a Cuphead con i due Nendoroid questi sono da avere a tutti i costi questo è il piccolo Cuphead che fa i suoni invece bellissimi Nendoroid il casco a grandezza naturale indossabile di Magneto e qui una piccola statua un rimasuglio di Black Widow da Infinity War queste statue iniziano a diventare abbastanza rari in realtà poi nuova sezione Minix ragazzi eccoli qua una panoramica fighissimi secondo me qui potete fare piazza pulita approfittate dello sconto e si prendono tutti così iniziate la collezione col botto Charizard Select questo anche è molto figo come figure costa pochissimo e non è male come resa e qui invece ragazzi troviamo le tartarughe eccole qua Super 7 faccio vedere una delle tre tartarughe disponibili per farvi capire di che si tratta eccole qua ragazzi già si vede il logo iconico e qui ragazzi praticamente sono le tartarughe classiche rifatte un po' modernizzate come articolazione e il resto con gli accessori ragazzi sono spettacolari una delle serie definitive di tartarughe da avere assolutamente per adesso disponibili tre però deve arrivare anche la quarta però queste qui sono copie uniche poi abbiamo sempre della Super 7 il Power Ranger rosso sempre su quello stile abbiamo l'ultimo batman che ride eccolo qua Beast Kingdom questo è qualcosa di eccezionale ragazzi veramente eccezionale anche questo se non sbaglio recensito sul canale ancora Beast Kingdom con un'altra perla eccezionale l'ultima copia del batman ragazzi dell'89 questo imperdibile e poi ragazzi abbiamo le ultime due mezco rimaste ovvero Wolverine X-Force edizione limitata ragazzi con la scatola di latta questa una chicca Hellboy anche questa una bella chicca per chi volesse la figura migliore del personaggio mai fatta in scala 6-7 pollici e qui abbiamo i tre samurai che ho per adesso ovvero rio in armatura bianca rio rosso e quello blu appena uscito se non sbaglio si chiamava Simo questo qui in italiano il nome originale non me lo chiedete ragazzi comunque sono loro i cinque samurai Sentinel che come resa come resa estetica ragazzi sono superiori anche a Bandai sono superiori anche a Bandai non c'è nulla da dire come materiali chiaramente questi sono tutti in plastica invece Bandai sono in metallo e qui sopra ragazzi ultimo set rimasto di Slim Dunk delle statue di Slim Dunk l'ultimissimo da non farsi scappare gli ultimi baluardi DC Collectibles della serie animata è questo Justice League Wonder Woman l'ultimissima spostandoci un po' più in qui abbiamo le due Batmobili quella di The Flash e quella del Batman dell'89 ancora nel brown box sigillata con il Batman incluso ragazzi queste due da prendere assolutamente con lo sconto se le cercavate e concludiamo con la parte Bandai cominciamo da questa parte inferiore dedicata alle Pop le ultimissime rimaste qui abbiamo Nendoro di Batman e Joker questi sono fighissimi tra l'altro da non sottovalutare versione caricaturale dei personaggi però veramente fighi Batman tra l'altro ha anche la Batmobile dentro cioè fantastico salendo un po' abbiamo un po' di Mayfax un po' di Jojo un po' di SH Figures cominciano quelle di Bleach per esempio Ichigo e Abarai di Renji le Mayfax solite qualità ultra top la Figma Jujutsu Kaisen Jojo My Hero Academy ragazzi questa è la Imaginations Works di Rufy SH Figures spostati perché questa è la miglior figure mai fatta di Rufy senza se senza ma e poi sezione SH Figures ragazzi sto sudando per fare questo video siamo a novembre un altro po' una cosa assurda allora Orange piccolo l'ultimo arrivato chiaramente anche lui acquistabile con lo sconto il set di effetti anche questo e qui vediamo tutte le altre disponibili ragazzi ce ne sono un po' ce ne sono un po' il mio consiglio qual è? il mio consiglio è assolutamente questo ragazzi tra tutte queste ragazzi Tarles con lo sconto è una delle migliori SH Figures mai fatte nella vita proprio qua un altro po' di Figures dai film Marvel Spider-Man ragazzi questa questa ragazzi non fatevela scappare Tom Holland assolutamente Naruto Sailor Moon e salendo abbiamo per concludere in bellezza Meat Cloth X per la maggior parte i cavalieri questi qui di acciaio Thor Cancer X Andromeda l'ultimo Hulk Figures rimasto Crystal il Cignone lì un po' di Digimon per non farci mancare nulla sempre le Sage Figures Son Goku Super Saiyan 2 questo è un altro consiglio per gli acquisti esclusivo e per concludere un bel Devilman e ragazzi il video magazzino speciale Luca Comics si conclude qui sono sfattissimo un altro consiglio per gli acquisti ragazzi l'ho visto solo adesso che stava un po' dietro prendetelo subito questo qui prima che sparisca di nuovo se non l'avete in collezione detto questo il codice sconto è ARA15 da applicare da oggi fino al primo novembre non vale per i preordini solo per tutto quello che avete visto disponibile disponibile ultima cosa che non vi ho fatto vedere ragazzi perdonate questa inquadratura molto ballerina ok il Green Ranger ragazzi il Green Ranger Diamond Select questo è un'altra chicca da prendere detto questo ragazzi io vi ringrazio come sempre per la visione ormai riprese proprio caserecce al massimo qui non si capisce più niente grazie a tutti comunque ciao ARA e collezionate sempre grazie a tutti